Quest'anno il tema della Fiera Quattropassi è futuro al lavoro. La Fiera Quattropassi, convinta dell'importanza di dare sempre più risalto alle proposte delle associazioni che si impegnano per una cultura della solidarietà, del rispetto ambientale e dello sviluppo sostenibile, ospiterà, per ognuno dei due weekend, anche associazioni che attivino quotidianamente proposte legate al tema di questa edizione.